Dopo aver pubblicato in tutte le salse il suo Warriors Orochi 3, Tecmo Kohei arriva sul mercato con il primo capitolo veramente next gen della sua famosissima saga Eken Slash. Samurai Warriors 4 si presenta quindi con qualche piccolo ritocco sul fronte del gameplay e alcune migliorie tecniche, ma senza abbandonare la filosofia tipica dei suoi predecessori. Samurai Warriors 4 si presenta al giocatore con un menu abbastanza sintetico, poco spazio per le opzioni e le personalizzazioni ed un set di appena tre modalità. Quella principale è lo story mode, qui finalmente revisionato nella struttura rispetto agli altri episodi. Non si seguono più le vicende di un singolo personaggio, bensì le storie di diverse dinastie, ciascuna composta da una breve serie di missioni. Non sappiamo quale possa essere il vostro grado di interesse per i racconti, sempre a metà fra la storiografia e la mitologia, ma la sceneggiatura messa in piedi da Tecmo Kohei non è proprio allo stato dell'arte. Le scene che introducono ogni battaglia sono statiche e noiose, e trovandosi di fronte all'ennesima reinterpretazione dell'ascesa di Nobunaga non si può trattenere un sonoro sbadiglio. Scesi in campo si ritrova lo stesso impianto ludico di tutti i parenti stretti del titolo. Anche qui si procede avanzando a testa bassa tra le fila nemiche, premendo i due tasti d'attacco per esibirsi in combo rapide e spettacolari, che fanno alzare di diverse decine di unità il contatore dei nemici uccisi. L'alternanza fra attacchi potenti e leggeri produce mosse diverse, ma l'effetto complessivo è quasi sempre lo stesso. La presenza di combo lanciate aumenta notevolmente i ritmi di gioco, di fatto rendendo meno tedioso l'avanzamento, ma in linea di massima tende anche a banalizzare ulteriormente un gameplay già di per sé piuttosto piatto, dal momento che l'uso intensivo di queste tecniche è probabilmente la strategia migliore per affrontare le truppe nemiche. Quando si arriva al confronto con un generale, invece, è meglio cambiare tattica e concentrare i colpi su di lui, eventualmente eseguendo uno Spirit Dash, tecnica avanzata che permette di allungare la combo e mantenere il nemico in aria. Sicuramente una trovata interessante, che rende leggermente più tecniche le battaglie. La progressione in ogni caso è davvero molto inquadrata, tant'è che, anche considerando la possibilità di portarsi in battaglia due combattenti, l'esperienza di gioco si fa monotona e noiosa già dopo poche ore. Il problema di Samurai Warriors 4 è legato alla sua risoluta essenzialità. Non ci sono le componenti strategiche di Warriors Orochi e la crescita di livello dei personaggi è molto lineare e quasi interamente automatica. Nonostante sia possibile utilizzare oggetti in battaglia, sono lontane le variazioni sul tema viste nel recente Hyrule Warriors, eppure gli intermezzi più movimentati e i quick time eventi di Pirate Warriors vanno dimenticati. La scarsa varietà degli obiettivi, la struttura troppo regolare delle location, il sistema di potenziamento dei personaggi che concede poco margine, sono tutti aspetti che pesano come macini sul titolo. Tornando al set di modalità, comunque, l'offerta di Samurai Warriors 4 si conclude con l'opzione libera e con l'inedita modalità Chronicles, che permette di girovagare liberamente per la land del Giappone alla guida di un personaggio costruito ex novo. Complessivamente, non si può dire che Samurai Warriors 4 sia il capitolo più ricco della serie e anche se il numero di personaggi è più che buono, diventa difficile lasciarsi conquistare a lungo. Più che sufficiente è invece il colpo d'occhio. Non bisogna aspettarsi miracoli dal punto di vista poligonale, perché i modelli dei nemici e anche quelli dei protagonisti non hanno certo la complessità che ci si aspetterebbe da un prodotto next-gen. La discreta fluidità dell'azione, assieme a qualche scorcio sicuramente d'atmosfera e a un numero soverchiante di effetti speciali, riesce tuttavia a tenere in piedi il titolo. C'è da mettere in conto d'altro canto la totale assenza di interattività, un po' di alesine che si intravede anche durante le inquadrature panoramiche e qualche texture non proprio in forma. Samurai Warriors 4 compie delle interessanti revisioni sul fronte del gameplay, da una parte aumentando il ritmo di gioco, dall'altra costringendo l'utente a porre più attenzione alle sequenze di attacco, soprattutto in occasione degli incontri con i nemici più pericolosi. Purtroppo queste migliorie, unite ad un comparto tecnico più consapevole delle capacità degli hardware next-gen, non bastano. La struttura delle missioni, il sistema di potenziamento, la qualità dei game mode perdono il confronto con tanti altri esponenti della saga Warriors. Capiamo l'entusiasmo dei fan che si avvicineranno per la prima volta ad un combat system più reattivo, per quanto ancora legato al button mashing, ma sulla lunga distanza sarà una cornice per nulla in grado di tenere alta l'attenzione dell'utente.